Buoni amici, oggi, in Best Top, vi proponiamo un elenco dei migliori router Wi-Fi 6 sul mercato. Migliorate la ricezione e la portata di internet con la più recente tecnologia di connettività e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi mostreremo i migliori venditori, i più economici e con la migliore tecnologia. Nella descrizione e nel primo commento sono presenti i link per l'acquisto, dove è possibile verificare il prezzo, le caratteristiche e le offerte disponibili. Siete pronti? Eccoci! Nella Top 1, Huawei Wi-Fi Axe 3. Iniziamo con l'opzione più economica della lista, che di solito si aggira intorno ai 50 euro. Con Huawei non avrete problemi di capacità. Questo router Wi-Fi 6 è in grado di collegare fino a 128 dispositivi, in modo molto fluido, senza perdere qualità e con doppia banda. Il suo segnale raggiunge anche le stanze più lontane e ha la capacità di passare attraverso le pareti, migliorando la copertura in qualsiasi punto della casa. Il suo segnale wireless è potente. Gli smartphone con Huawei Wi-Fi 6 possono inviare segnali più forti di 6 dB a questo router, utilizzando la tecnologia Dynamic Narrow Bandwidth. Con una velocità di trasferimento dati di 3000 Mbps. Dispone inoltre di un'elevata larghezza di banda di 160 MHz, per un'esperienza veloce e priva di latenza sui dispositivi mobili. Una scelta eccellente e molto economica per voi. In breve, un router molto completo, che ha la valutazione positiva di oltre 2000 utenti, e quindi, non possiamo che consigliarne l'acquisto nel link della descrizione. Nella top 2, Tenda RX 3. Continuiamo con un modello economico di un di grande reputazione e qualità come Tenda. Questo modello si può trovare a meno di 60 euro. Tenda è dotato di tecnologia Wireless 802.11 AX, per una connessione veloce e di alta qualità. Può raggiungere fino a 1775 Mbps al secondo con velocità Dual Band simultanea, consentendo di sperimentare dinamicamente i video 4K o persino di godere di una realtà virtuale fluida. Grazie alla tecnologia Mumimo e Ofma, RX 3 è in grado di elaborare fino a 128 connessioni simultanee sulla stessa rete con una latenza ridotta. È dotato di una potente CPU Quad-Core da 1,5 GHz che garantisce una risposta, un'elaborazione e prestazioni rapide per tutte le attività di rete. La tecnologia Beamforming con 4 antenne offre una maggiore copertura, focalizzando il segnale individualmente e aumentando le prestazioni per coprire un'area fino a 110 m2. RX 3 applica la tecnologia di sicurezza WPA 3 Top, che consente password più complesse e una rete sicura, impedendo che venga facilmente violata. Inoltre, è compatibile con Alexa per controllare il dispositivo tramite comandi vocali. Con una valutazione di 4,2 stelle su 5 e il prestigio del suo marchio, questo router è uno dei migliori per il suo rapporto qualità-prezzo. Ricorda che hai tutti i prezzi, le offerte e le opinioni nei link della descrizione e nel primo commento del video. Nella Top 3, TP-Link Archer. Entriamo nella fascia media con uno dei marchi più importanti del mercato. TP-Link ci offre una qualità estrema nei suoi prodotti. Le 6 antenne, l'alta potenza FEM, la tecnologia Beamforming e le strutture 4T4 di questo router Wi-Fi 6 sono perfettamente adatte a garantire la copertura Wi-Fi in ogni angolo della casa. Concentrare la potenza del segnale sui dispositivi. Supporta una trasmissione Wi-Fi di 5400 MB al secondo, che consente download e streaming veloci, ideali per lo streaming 8K e i giochi. Questo dispositivo è inoltre dotato di una maggiore sicurezza, lot con home shield. Con funzioni quali, scansione della sicurezza di rete, controllo parentale di base, reportistica settimanale e mensile e molto altro ancora. Inoltre, dispone di una porta One e di quattro porte LAN per le connessioni con cavo RI lunga 45, mentre la porta USB 3.0 consente una facile condivisione dei contenuti multimediali e l'archiviazione privata su cloud. Tutto questo, insieme al design ventilato, migliora enormemente la dissipazione del calore. Portate a casa questo modello e scoprite un nuovo modo di navigare in internet. Il design, la qualità, la connettività e il prezzo ne fanno la scelta migliore nella sua gamma. Nella top 4, Asus RTX 58. Se potenza e connettività sono importanti per voi, questo modello di Asus, per meno di 200 euro, può essere un ottimo acquisto. Il router Asus con Wi-Fi 6 dispone di 160 MHz di larghezza di banda con tecniche CAM a 1024, che garantiscono un consumo energetico ridotto e offrono maggiore capacità al dispositivo e velocità più elevate. La velocità totale della rete è di circa 3000 megabit al secondo. Supporto Mumimo e Ofma, con cui il nuovo standard 802.11 Axe divide ogni canale in sottocanali, in modo che possano essere utilizzati da più dispositivi contemporaneamente. Questo si traduce in una minore latenza e in un'esperienza Wi-Fi più fluida e veloce, che arriva fino all'80% di distanza. È inoltre dotato della tecnologia Target Wake Time, che riduce il consumo energetico fino a 7 volte, in quanto questo modello trasmette i dati ai dispositivi solo a intervalli di tempo prestabiliti. Questo router include iProtection Pro con tecnologia Trend Micro e aggiornamenti di sicurezza regolari per mantenere al sicuro i vostri dati personali. Con una valutazione di 4,4 stelle su 5, è l'opzione più votata e, grazie all'approvazione di molti utenti che l'hanno già provata, vi consigliamo di acquistarla. E infine, nella top 5, Asus RTX 92. Se siete molto esigenti in fatto di qualità, connettività e potenza, questa opzione di fascia alta di Asus è un best seller. Questo dispositivo vi consentirà di usufruire di una connessione wireless di alta qualità, stabile e sicura, con un'ottima portata, senza perdere potenza. È dotato di tecnologia 802.1 1AX, che riesce a raggiungere ogni angolo della casa. Fornisce un Wi-Fi molto stabile. Ha una velocità fino a 4804 Mbps, che consente a tutti i dispositivi collegati di sfruttare la velocità del provider di servizi e di godere di streaming, giochi e 4K in modo molto fluido. Dite addio alla latenza con questo router, grazie alle tecnologie Ofma e Mumimo, che consentono la connessione simultanea di più dispositivi e offrono una capacità e un'efficienza nelle reti intasate dal traffico 4 volte superiori rispetto alla generazione precedente. Supporta sia i dispositivi tradizionali che quelli di nuova generazione. I dispositivi compatibili possono accedere alla connessione 802.1 1AX utilizzata da questo router, consentendovi di sfruttare la capacità Wi-Fi del vostro nuovo gadget. Inoltre, questo dispositivo offre un'ottima sicurezza, grazie ad iProtection Pro con tecnologia Trend Micro e agli aggiornamenti regolari della sicurezza, per una proiezione costante dei vostri dispositivi. Permette di creare una rete Wi-Fi Mesh utilizzando i router Asus compatibili. In questo modo, quando sarà necessario espandere la rete, si potrà continuare a utilizzare i router già presenti. Da Best Top, vi consigliamo questo apparecchio di fascia alta, con il quale potrete godere di un'esperienza eccezionale dal salotto di casa vostra. Hai dubbi su qualche modello? Scrivete nei commenti e li risolveremo al più presto. Grazie per essere rimasto fino alla fine. Se ti è piaciuto il video, sostienici con un like, e ricordati di iscriverti per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima! Ciao!